Il 4 di marzo abbiamo un'occasione importante, l'occasione di cambiare questa regione, di renderla una regione più moderna, più europea, dove il lavoro e la qualità dell'ambiente, la qualità della vita possono correre di pari passo come le migliori regioni europee. Chi ci ha governato fino ad oggi ci ha portato in una situazione dove i treni sono gelidi d'inverno, bollenti d'estate in perenne ritardo. Non sono un'alternativa all'utilizzo dell'auto e abbiamo la peggior qualità dell'aria d'Europa. 20 mila morti l'anno in regione Lombardia per la scarsa qualità dell'aria. Il rinnovo del patrimonio edilizio, quindi facciamo lavorare le nostre piccole e medie imprese e miglioriamo le emissioni in atmosfera. Investimenti in mobilità elettrica e in mobilità su treno sono il futuro e sono la modernità che rappresenterà regione Lombardia governata dal Movimento 5 Stelle. L'occasione è di avere una sanità pubblica al servizio dei cittadini e non un business in mani privati, dove la persona viene presa in carico sul territorio, viene curata in modo multidisciplinare secondo quella che è la sua sfera personale e non solo la malattia. Insomma abbiamo l'opportunità davvero di cambiare. Chi ci ha governato fino ad oggi ci ha portato ad essere una regione che arretra rispetto alle altre a livello europeo, nonostante l'operosità dei Lombardi. Noi vogliamo dare un futuro ai nostri figli, dare un futuro alla nostra terra, un futuro fatto di sviluppo economico, di lavoro, di tutela dell'ambiente e di orgoglio di essere Lombardi. Il 4 di marzo abbiamo l'opportunità di cambiare davvero regione Lombardia, è evidente che gli altri non sono credibili. Se anche tu credi in un cambiamento vero nel futuro di regione Lombardia, sostienici e cambiamo insieme questa regione.